Una prima edizione che ha galvanizzato gli organizzatori che già stanno pensando di bissare. Il Monkey Street Boulder ha animato le vie di vicoli del quartiere di San Martino, con partecipanti arrivati da ogni parte d'Italia e arrampicatisi sulle pareti di abitazioni ed edifici storici. L'associazione del quartiere ha voluto così partecipare al Mese dello Sport, lanciando per la prima volta a Gubbi una disciplina in realtà molto praticata in tutto il mondo e che appassiona chiunque ci si avvicini. Come si può raccontare? Beh, è presto detto, vengono individuate pareti da scalare senza l'aiuto di alcun attrezzo, mani nude e voglia di sfidare quello che appare impensato ai più. 82 gli iscritti arrivati da ogni parte d'Italia, 59 le vie coinvolte dell'intero quartiere. Le finali si sono poi svolte in piazza utilizzando le due pareti artificiali. Nella categoria femminile ha vinto la giovanissima Miriam Fogu, già campionessa italiana. Per il maschile a strappare il podio è stato l'altro giovanissimo Umbro Francesco Rossetti di Perugia, facente parte della nazionale. L'iniziativa, baciata dal sole dopo la pioggia della mattina, ha richiamato tantissimi curiosi, tra i gubini e i turisti, ed ha sicuramente invogliato alcuni a provare. Prima o poi, magari chissà, proprio durante la seconda edizione del Monkey. Dunque, Associazione Quartiere di San Martino al lavoro.